Cari amiche, oggi vi voglio presentare qualcosa di veramente fantastico. I nuovi inventatimbro di Pucci. Guardate! Non solo potete mandare messaggi speciali, ma con un po' di fantasia e con tante letterine che si attaccano, potete aggiungere altre parole. Allora, capito? Claudia, ti va bene il risotto per oggi? Sono i nuovissimi inventatimbro di Pucci.